...contemporaneo Charles e Salsa, che è stato già presentato in congressi tra i più importanti in Italia, tra cui l'ultimo il Cubamania. Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Loro sono Felice Oviani e Annalisa Roscia, in Oscura Tentazione! Grazie a tutti. Grazie a tutti.